Il campionato italiano Rally Autostoriche 2018 trova la sua conclusione al Rally Due Valli Storic. La gara, organizzata da Automobile Club Verona, è studiata all'insegna dello spettacolo, ma anche in un programma che si articola in due tappe e otto prove speciali lunghe e impegnative. È il tratto cronometrato di Erbezzo a caratterizzare la prima giornata di gara. I 22 chilometri della frazione sono ripetuti due volte dai concorrenti, poco più di 44 chilometri asfaltati che regalano emozioni e adrenalina, esaltando le doti di pilotaggio del neocampione italiano Lucchi e di Mimmo Guagliardo. Il vicentino della Rally Club Team, come sempre affiancato da Fabrizia Pons, a scandire ritmo e note nell'abitacolo della Lancia Delta Integrale, firma lo scratch nel primo passaggio, mentre il secondo nella ripetizione dello stesso tratto cronometrato alle spalle del siciliano della Highland Motorsport che si aggiudica il miglior tempo. Uno pari, si direbbe, dalle parti del Bentegodi, ma al traguardo della prima giornata di gara la somma dei tempi mette Lucchi al vertice della classifica generale provvisoria con otto e otto su Guagliardo, secondo pagando un inizio non sfolgorante per la non perfetta frenata della sua Porsche e qualche chilo di ruggine da scrollarsi di dosso. Terzo in classifica di fine prima giornata è il giovane rampollo del casato Battistolli. Alberto è infatti alle spalle delle due di testa guidando al meglio la Fiat 131 Abarth Gruppo 4 che divide con Gigi Cazzaro alle note. Il ventenne vicentino conduce il terzo raggruppamento con un decimo di secondo sul grintoso trentino Tiziano Nerobuto che con la Opel Ascona 400 Team Bassano ed assieme a Luca Zambiasi è quarto assoluto e pronto ad attaccare ulteriormente. Al controllo stop della prima prova speciale non transita il siciliano Natale Mannino, costretto ad abbandonare la gara subito dopo la partenza della prima prova per un guasto all'acceleratore della sua 911 SC. Quinto assoluto, primo dei piloti veronesi, è Guido Sterza con alle note Gianca nell'abitacolo della Renault 5 Turbo Gruppo B. Al primo posto del secondo raggruppamento sono i biellesi Anzilero e Berra su Ford Escort MK2 BMT, precedendo di misura Mauro Paiusco e Simone Belloni su Ford Escort 1.6 davanti a Bonini e Seminara su Porsche 911. Bene, le due prove erano due prove anche se tecnicamente molto valide, diciamo relativamente facile perché l'inferno ci aspetterà domani dove ci sono delle prove ancora più difficili. Erano prove impegnative molto lunghe e abbiamo fatto bene, insomma, con molta attenzione di non sbagliare perché partire per primi la mattina con il viscido che nel sottobosco c'era comportava qualche rischio. La seconda tappa del rally regala spettacolo e inattesi colpi di scena. Si corre sulle sei prove speciali in programma prima del traguardo in Piazza Bra al cospetto dell'arena e Lucchi parte forte a Roncà, segna il miglior tempo, consolida un primato che però si rivela effimero in quanto nel successivo impegno la sua lancia delta integrale perde la ruota anteriore sinistra causandone il ritiro. L'inatteso ritiro del Vicentino consente a Guagliardo di passare al comando. Il portacolori della Highland Motorsport, navigato da Granata, conduce con buon margine di vantaggio sul secondo, Tiziano Nerobutto. Il Trentino del team Bassano galvanizzato dal buon risultato che si prefigura. Il driver della Opel Ascona 400, assecondato da Lucia Zambiasi alle note, spinge forte e si aggiudica PS5 e PS6 nel tentativo di aumentare il divario che lo separa da Battistoli Junior. Sono 30 i secondi che dividono il ventenne Alberto, navigato da Cazzaro, sulla Fiat 131 Abarth da Nerobutto, nella classifica assoluta dove è terzo e nel terzo raggruppamento dove è ora secondo, mentre esce di scena Gianmarco Marconi per rottura della frizione della Porsche 911 SC Pro Racing. Alle loro spalle sta rinvenendo il veronese Sterza, navigato da Gianca sulla Renault 5 Turbo Gruppo B, con la quale è quarto assoluto dopo aver superato Nicola Patuzzo, con Alberto Martini alle note sulla Ford Sierra Cosworth Gruppo A. Sterza è secondo del quarto raggruppamento e Patuzzo terzo. Il finale dell'ottava gara dell'anno offre il sesto differente vincitore. Infatti, Domenico Guagliardo e Francesco Granata si impongono in un rally diventato una passeggiata triunfale a bordo della Porsche 911 Gruppo B, chiusa infatti con la vittoria al traguardo di Verona, precedendo al secondo posto Tiziano Nerobutto. In coppia con Lucia Zambiasi, il trentino del team Bassano sulla Opel Ascona 400 Gruppo 4, è vincente in alcune prove e secondo assoluto nel finale, dove firma anche l'affermazione nel terzo raggruppamento. Un terzo raggruppamento che ha confermato la crescita del ventenne Alberto Battistolli, che in coppia con Luigi Cazzaro è terzo assoluto e secondo di categoria con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4. Nonostante il ritiro accusato nelle prime battute di gara per la rottura dell'acceleratore della Porsche 911 SC, Natale Mannino e Giacomo Giannone sono i nuovi campioni italiani del terzo raggruppamento. La gara è andata molto bene, la macchina ha marciato veramente alla grande, non ha avuto neanche un minimo problema. Ovviamente siamo stati un po' anche favoriti dal ritiro di Lucchi, però le gare sono fatte così, io ce l'ho messo tutta sin dall'inizio, ci credevo, sapevo di avere un mezzo veramente all'altezza della situazione. Ottime le gare dei piloti locali con Nicola Pattuzzo, quarto assoluto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A e di Guido Sterza, quinto con il Renault 5 Turbo Gruppo A. I biellesi Anziliero e Berra, settimi assoluti al traguardo dell'Arena di Verona e primi del secondo raggruppamento con la Ford Escort MK2 Biella Motor Team.